Ah ah ah! Eccomi! Sì! Boom! Woohoo! Sì! Vincerò io! Sì! E... finisce dritto nel canyon. Ci penso io! Sofia, no! Non prendere quella rampa così! Velocemente. Ehi, squadra! L'ho trovato! Ehm... non riesco a... a risalire! Oh! Non preoccuparti! Ti faremo risalire costruendo una nuova meravigliosa megapista! Pista! Nessun limite! Nessuna regola! Nessun vincolo! Nessun freno! Vedi, Sofia? Andare veloci non è sempre bene. Metterò delle grandi curve per una discesa più sicura. Ah! Ha funzionato! Tadà! Visto come era armoniosa? Ma adesso sei bloccata anche tu! No! Non lo sono! Guarda! Sto bene! Ci serve più velocità! Ma cosa stavate pensando? Un canyon così grande necessita una capacità di fare acrobazie ugualmente grande! Guardate qui! Woohoo! Caricatelo! Oh no! Non avevi la velocità giusta! Almeno è venuto bene! Mia madre dice sempre... Se fallisci, fai un altro giro e riprova! Aggiungiamo un altro loop dopo il salto! Wow! Mm-hmm! Woohoo! Fantastico! Ah! No! Non mi stai ascoltando! Ci serve maggiore velocità! Sofia ha ragione! Con una pista così ripida, la forza che ci ostacola è quella di gravità! Per contrastarla, di cosa abbiamo bisogno? Hmm... Sofia? Oh? Eh... Velocità! 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 Muoviamoci! Sembra... pericoloso? Questa pista è fantastica! Boom! Uh-huh! Forte! Vroom vroom! Credo che funzionerà! Vroom! Ce l'ha fatta! Uh-huh! Sì! Devo riconoscerlo, Sofia! Sei sempre qual è il momento giusto per la tua scarica di velocità! In più, credo che tu abbia inventato un nuovo gioco! Palla veloce! Forte! Boom! Sì! Andiamo, squadra! Perfetto! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha!